Abbiamo deciso ormai da qualche anno di tornare a dare il nome al premio innovazione premio Vespucci perché ricordiamo un grande toscano che ci ha insegnato che bisogna sempre cercare territori inesplorati, bisogna avere la capacità di trovare strade nuove per costruire un futuro migliore. Il Medesenter Sassoli di Palazzo del Pegas a Firenze è presentata la settima edizione del premio innovazione toscana Amerigo Vespucci, premio ideato per sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica digitale sostenibile nelle imprese toscane e per promuovere l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. Il premio è promosso dal Consiglio regionale della Toscana insieme a Confindustria Toscana e organizzato dalla Digital Innovation a Betoscana. I risultati sono quelli per cui abbiamo portato alla luce soprattutto in questi ultimi anni tantissimi progetti per un totale di 350 progetti, abbiamo premiato oltre 60 imprese startup innovative che in questi anni hanno avuto occasioni tangibili di crescita, sviluppo e visibilità. L'edizione di quest'anno noi crediamo che possa ancora far crescere questa iniziativa e quindi il premio anche per la scelta convinta di Confindustria Toscana e del Consiglio regionale di puntare su un tema che oggi incrocia una delle principali sfide che stanno affrontando le imprese nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico che è la sfida della sostenibilità sociale. Abbiamo quindi dedicato la sezione speciale di questo premio proprio al tema dell'innovazione dedicata alla sostenibilità sociale, andremo a premiare imprese, startup innovative e anche spin-off accademici che si sono distinti su questo tema, che applicano nelle loro realtà i principi ESG e che quindi mettono al primo posto anche i temi che sono la valorizzazione delle diversità, dell'inclusione in azienda, il benessere e la salute dei propri dipendenti. Come partecipare? Da oggi apre il bando che sarà aperto per un mese fino al 12 novembre prossimo, al quale si partecipa in maniera molto semplice, si va sul sito del premio, premio Innovazione Toscana, alla sezione bandi, si scarica il bando 2024, si partecipa a una delle quattro sezioni previste dal premio, oltre alla sezione speciale innovazione e sostenibilità sociale, le tre sezioni che confermiamo anche quest'anno, startup innovative, brevetti, ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile, partecipando al premio che è un bando aperto a tutte le imprese di tutti i settori e tutte le dimensioni, alle startup innovative di tutta la regione Toscana, si concorre a opportunità molto concrete, quindi a contributi fino a 15 mila euro, anche più piccoli di 5 mila euro e soprattutto a occasioni di visibilità. Quest'anno avevamo preso un impegno anche negli anni scorsi, inseriamo oltre a questa novità della sezione sostenibilità sociale, anche delle migliorie da un punto di vista di organizzazione e di procedure e quindi partiamo già oggi con le attività che vedranno anche la costituzione della commissione giudicatrice, quindi di questo organismo molto importante, che è formato da illustri e autorevoli esponenti del mondo accademico e industriale, che andranno a giudicare i progetti e che entro la prima metà di dicembre daranno subito risultato a tutte le imprese che ci auguriamo tante, che possano e vogliono partecipare a questa occasione. Siamo confortati anche dai risultati delle edizioni precedenti, con grande partecipazione. In modo particolare siamo felici che possono nascere start-up innovative che poi piano piano possono diventare anche imprese e anche questo è una parte dello scopo, oltre che creare innovazione all'interno delle aziende. Quest'anno il tema è ESG e quindi molto importante, è un tema che dobbiamo tutti portare avanti perché dobbiamo andare in quella direzione e ci auguriamo che ci siano tante presenze come il passato e progetti importanti perché siamo convinti che i talenti fanno crescere l'economia della nostra regione. Penso che anche quest'edizione sarà una bella sfida e invito tante imprese a partecipare per condividere lo stato dell'innovazione della nostra regione. Diciamo che chiariamo quali sono i percorsi burocratici che devono essere fatti, quali sono i requisiti che le farmacie devono avere e chiariamo e diamo certezza sul fatto che possono essere svolti anche in Toscana in maniera abbastanza snella ma garantendo comunque la sicurezza delle prestazioni, quello è un elemento essenziale e le farmacie devono garantire e chi fornisce ovviamente gli apparecchi che vengono utilizzati nelle farmacie. Ad eccezione del voto di astenzione espresso dal Movimento 5 Stelle, l'Aula del Consiglio regionale della Toscana approva la nuova legge per i servizi erogati in farmacia. Nuova legge che come spiegato dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni va a modificare la legge regionale 16 del 2000 allo scopo di adeguarla al decreto legislativo 153 del 2009 che per primo ha introdotto il concetto di farmacia dei servizi e alle normative nazionali susseguitesi nell'arco degli ultimi 15 anni. Nella sostanza noi adeguiamo la normativa regionale del 2000, la 16 del 2000, alle mutate normativa nazionale dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi e con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono da un punto di vista normativo e quindi da un punto di vista delle leggi oppure anche dei accordi Stato-Regioni eccetera eccetera, tutti quelli che possono essere servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi dicendo che possono essere spazi, devono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy oppure spazi anche esterni alla farmacia purché abbiano questi requisiti, escludiamo soluzioni come gazebo, strutture precarie salvo ovviamente situazioni di necessità come è stato per il Covid dove le aziende possono autorizzare e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma una norma che va a implementare l'attività che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. Le farmacie sono un elemento di integrazione della rete sanitaria sul territorio anche della nostra regione che acquisisce una valenza particolarmente significativa nelle aree periferiche dove non ci sono strutture pubbliche. È una infrastruttura di professionisti che possono essere di grande aiuto per i cittadini anche in adempimento di funzioni burocratiche. Pensiamo ai CUP che già si realizza all'interno delle farmacie, l'attivazione delle carte sanitarie. Presto l'assessorato ha già annunciato anche gli screening potranno essere una parte degli screening come quello del colorretto. I cittadini potranno decidere se portare le provette nel distretto oppure le farmacie che si integrano ma non competono mai con le strutture pubbliche che sono l'architrave del nostro sistema territoriale. Ancora oggi non sono tantissime le farmacie che svolgono servizi. Per noi è ospicabile che questa rete si allarghi e più, ancora più, ci sia una prossimità tra cittadino e erogazione della prestazione sanitaria. È un avamposto territoriale, soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie disagiate delle grandi città del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi, potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale, dei pediatri libera scelta ma anche di specialisti. Potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia. Insomma, una nuova farmacia che avvicina la prestazione del servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. Da questo punto di vista noi siamo convinti che la strada tracciata dal governo Meloni sia quella giusta. Sicuramente da questo punto di vista la risposta del Partito Democratico è tiepida, ma noi cercheremo di migliorarla nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Il voto è stato sicuramente positivo poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR dove tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. È l'opportunità di erogare servizi aggiuntivi sul fatto per esempio delle prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei pressi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie. È un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi e un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. Vi ricorderete quanto fatto anche nella scorsa legislatura dal sottoscritto che portò nelle farmacie i CUP, che ha cercato di portare maggiori servizi aggiuntivi, alcuni esami diagnostici possono essere fatti e refertati direttamente in ambito farmaceutico, ovviamente serve la presenza di personale specializzato, serve la possibilità di avere locali idonei, serve comunque, è un'opportunità essenzialmente per erogare maggiori servizi in maniera capillare anche in quella Toscana diffusa dove non sempre le persone riescono a accedere ai servizi ospedalieri. Negli scorsi giorni una delegazione della Commissione Europa del Consiglio regionale della Toscana ha partecipato alla settimana europea delle regioni e delle città, un momento importante si sottolinea utilissimo per focalizzare l'attenzione su diversi temi che nel prossimo futuro potranno essere portati sia in Commissione che in Aula di Consiglio. Noi faremo un passaggio nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale perché vogliamo proporre una novità, la possibilità di costruire proprio una forma di collaborazione con gli europarlamentari toscani eletti a Bruxelles e da lì poi torneremo in Commissione Europa per mettere anche in fila tutta una serie anche di temi e di questioni che vogliamo approfondire da qui sino alla fine della legislatura. E naturalmente porteremo avanti le iniziative che sono già state messe in cantiere, tra queste mi piace ricordare il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli che ci corrobora nella volontà di continuare a ricordare questa figura e soprattutto anche di farlo come lo stiamo incarnando anche con proposte che stiamo portando avanti in questi anni guardando alle giovani generazioni. Una missione di indubbia qualità informativa anche per noi consiglieri regionali e per questo devo ringraziare sia gli uffici sia il Presidente Gazzetti per aver organizzato in modo così brillante questa missione. Va detto che l'Europa è centrale e che dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per renderla tale. Una vera Europa, che sia un'Europa che si basi su una coesione autentica, che sia un'Europa in grado di dare risposte concrete a tutta una serie di questioni. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in Regione Toscana lancia un'accusa pesante alla sinistra, incapace secondo il loro giudizio di non saper amministrare i milioni di euro che arrivano da Roma con il Fondo Sanitario Nazionale. Punto della questione 22 milioni di euro che sempre secondo il partito meloniano non vengono erogati dallo Stato perché proprio la regione non le sta richiedendo. Paradossale che nel momento in cui si decide in qualche modo di mettere le mani in tasca ai toscani con l'aumento dell'IR per cercare di far quadrare i conti di fronte a quella che è una situazione di difficoltà strutturale dei conti della sanità toscana, si scopre che paradossalmente ci sono 22 milioni ancora che sono stati di fatto stanziati per questa regione, che sono legati al sostegno finanziario per i piani interpandemici che in realtà ancora si trovano al Ministero dell'Economia. La regione toscana è stata sollecitata già nel gennaio di quest'anno a rendicontare l'utilizzo di questi fondi, condizioni necessarie affinché questi fondi poi potessero essere erogati, in realtà che questo adempimento sia stato fatto ad oggi non risulta, comunque non c'è notizia. Io credo che noi abbiamo un serio problema di controlli, un serio problema di verifica su quello che è l'operato anche delle aziende sanitarie, perché di fatto i centri di costo partono da lì, un monitoraggio serio e accurato di quello che è non solo il raggiungimento degli obiettivi, ma soprattutto obiettivi che mirino ad una riduzione di tutto quello che non è legato alla necessità, all'urgenza e anche all'efficienza del sistema. Questa è la partita. Se non ritroviamo le cause di un disavanzo che è strutturale, noi non riusciremo neanche per il prossimo futuro a capire come spendere al meglio le risorse. Di fatto siamo una regione che non controlla, una regione che anche di fronte a situazioni di tutta evidenza, come in questo caso, quando basterebbe far fronte a quello che è un normale adempimento amministrativo per riuscire a reperire delle risorse, si continua invece a scaricare la responsabilità sul governo nazionale. Un governo nazionale che di fatto, come dire, le risorse in sanità si è impegnate a metterle e le metterà da qui ai prossimi mesi con la finanziaria. Questa è l'immediata risposta del Partito Democratico. La risposta è abbastanza semplice. Questi sono soldi che erano stati stanziati alla fine della pandemia per acquisire, intanto sono soldi per investimenti, tolti dall'articolo 20, che da anni il governo, da quando è in carica, non sta più finanziando e sui quali si fanno gli investimenti per la sanità. Sono stati tolti e sono stati messi per, in questo caso, acquisire mascherine e dispositivi che erano fondamentali durante la pandemia. La questione è che quei soldi non tenevano conto dei prezzi, dei DPI, di questi strumenti durante la pandemia. Nel frattempo il prezzo è crollato e se noi acquistavamo presidi per tutti quei soldi, 22 milioni, avremmo acquistato una quantità di materiale assolutamente inutile per il sistema. Allora l'assessorato ha chiesto al Ministero se si può usare una parte, neanche un milione d'euro per comprare quei dispositivi e il resto usarli per investimenti nel sistema sanitario. Quindi quello che la Regione ha fatto ha evitato un grosso spreco che in una fase come questa, in cui vi è un bisogno importante di investimenti in sanità, sarebbe stato davvero imperdonabile. Grazie a tutti.